La giustizia, lenta come è oggi in Italia, frena l'economia, se non addirittura la danneggia. E qui ci sono 133.000 aziende. Il nostro compito è quello di aiutarli a crescere. Così ha detto Leonardo Basilichi, presidente della Camera di Commercio Cittadina, primo ente pubblico europeo a promuovere la strada della mediazione per risolvere le controversie. Un fatto che ci rende orgogliosi, ma anche un peccato perché appunto non ce ne sono altri. Alla prima Global Pound Conference al Teatro della Pergola si è parlato di questi temi attraverso tavoli di lavoro, con persone che per ogni tematica affrontata dai vari esperti presenti hanno potuto esprimere il loro giudizio con un voto telematico. Abbiamo puntato tutto sulla mediazione internazionale perché fa più effetti. Lavora su raccogliere investitori qua sulla piazza, perché comunque vuol dire che qua arrivano in realtà dalla Cina alle Stati Uniti per contrarsi e fare appunto arbitrati e sostanzialmente costruisce questa nuova giustizia alternativa che riduce i tempi di giustizia, che è una delle prime cose da fare all'interno della giustizia. È giusta la parola snellire perché l'effetto sarà sicuramente questo e il Tribunale di Firenze sta investendo in questa direzione. Vedrete che a breve usciremo con due progetti piuttosto importanti che incrementeranno questo istituto della mediazione. Ma non è solo questa la parola, la parola è anche il cambio della mentalità e crescita culturale.